Da dove sarai? In un paese straniero dove non conosci la lingua, tranne la mia. Non ti preoccupare, quello a un letto per dormire lo trova di sicuro, capitai? Me la ciulano. Avvocato, me la ciulano, me la ciulano, me la ciulano. Oh, Kikki, c'è nessuno in casa? Poi aprite che me sto a cacassotto nel freddo. Mi ho chiesto qua. Scusi, ma che fa? Cosa grida? Bravo, Kikko, pa' me' troppa, che me so' fatto una cortina in 4 ore e 6 minuti. So' proprio che sconporto. Ma spegna quella musica. Ma che te non ti piace la tecnica, senti che roba? No, non ci piace. E poi qui c'è gente che sta ancora a letto. T'ha nasco qua, eh. De mattina ma come gli avagosto, ha freddo. Oh, ma che modo di parlare? Siamo nel Veneto, nella perla delle Dolomiti. Mica a campo di carne. Cos'è, cosa che ti dico? Ma fammi entrare, va.